Il primo marzo è andata in scena ad Asti la prima dello spettacolo teatrale Sante Madri Sirene promossa dal Consiglio regionale nella ricorrenza dell'8 marzo Festa della Donna. Grazie alla consulta delle elette lo spettacolo teatrale viene proposto anche a Cuneo il 7 marzo, a Torino l'8 e a Novara il 12. L'ingresso è gratuito sino a esaurimento posti. Un'occasione per riflettere sul valore della Festa della Donna come ha spiegato la presidente della consulta Giuliana Manica perché nel corso degli anni si è perso il vero significato di questa ricorrenza ma non sono state rimosse le condizioni che ne fecero una giornata di lotta per ricordare le operaie morte l'8 marzo del 1908 nell'incendio di un'industria tessile di New York.